Io sono Madama Bumba, la tua insegnante. Per la prima lezione dovrai volare attraverso questi anelli magici. Controlla il tuo manico di scopa con i tasti freccia. I tasti accelera e rallenta regolano la tua velocità di volo. Sei pronto, Potter? Al mio fischio, allora. Proviamo ad andare un po' più in alto. Voi sti, voi sti, voi stai, vieni, 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 vieni. Credo proprio che tu ha, che tu ha, che tu ha Proprio, 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 ne? Proprio, 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 proprio Sei un talento naturale, Potter Dieci punti a grifondoro per la tua prova Inoltre, mi congratulo con te per essere stato il primo studente a trovare la stanza segreta dal 1867 D'ora in poi potrai esercitarti nel volo in qualsiasi momento Troverai l'opzione nel menu principale Adesso è l'ora della lezione di incantesimi Buona giornata, Potter Grazie a tutti Ci dipendo Ci dipendo Ci dipendo Ci dipendo Ci dipendo Ci dipendo Hai conosciuto Hagrid? È così grande che faccio fatica a vedere la sua testa Buona giornata Sei in anticipo per la lezione Harry Ma ti insegnerò un incantesimo che ho imparato da sola L'incantesimo che ho imparato è l'Alo-O-Mora Ti permetterà di aprire ogni cosa chiusa magicamente Ma cerca di non cacciarti nei guai Questo è il simbolo dell'incantesimo Halo-O-Mora Quando mi fermo, tieni premuto il pulsante del mouse e segui la stessa sequenza Dopodiché, rilascialo Non ci siamo L'Alo-O-Mora è un incantesimo complicato Riproviamo All'Alo-O-Mora Niente male, ma sono sicura che puoi fare di meglio Fantastico, Harry Sono sicura che il professor Vizio si assegnerebbe alla tua casa 5 punti per quell'incantesimo Solo con l'esercizio è possibile migliorare Fai un altro tentativo All'Alo-Mora Sei stato grande, Harry Sei stato molto bravo, Harry Il professor Vizio si assegnerebbe alla tua casa almeno 10 punti Stai imparando All'Alo-Mora Eccellente, Harry Il professor Vizio si sarebbe molto soddisfatto della tua prova, Harry Sono sicura che assegnerebbe 15 punti alla tua casa Stai imparando Oh, beh, ci sei andato vicino Ora prova a usare l'Alo-Mora Manca ancora qualche minuto prima che inizi la lezione di incantesimo La porta di fronte a te è chiusa magicamente Lancia l'incantesimo Alo-Mora per aprirla Alo-Mora Ce l'hai fatta Adesso sei in grado di scoprire i due segreti nascosti in questa stanza Alo-Mora Ci dipendo Alo-Mora Alo-Mora Se hai finito di compiacerti, Harry Dai un'occhiata a quella cassa magica Lancia l'incantesimo Alo-Mora per aprirla Alo-Mora 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 Grazie a tutti. Benvenuti, giovani maghi. Io sono il professor Vizius. Oggi vi insegnerò l'incantesimo di levitazione Vingardium Leviosa. Osserva bene il simbolo dell'incantesimo Vingardium Leviosa. Quando mi fermo, tieni premuto il pulsante del mouse e segui il movimento. Dopodiché, rilascialo. Devi essere più attento, Potter. Non è questo che ti ho insegnato. Continua a provare, Potter. Ce la puoi fare. Vingardium Leviosa! Davvero strabiliante, Potter. Cinque punti a Grifondoro. Continuiamo con la lezione, Potter. Vingardium Leviosa! Davvero strabiliante, Potter. Dieci punti a Grifondoro. Questa volta cerca di essere leggermente più veloce. Vingardium Leviosa! Ottimo lavoro, Potter. Quindici punti a Grifondoro. Continuiamo con la lezione, Potter. Che sfortuna. Questa volta ce l'avevi quasi fatta, Potter. Ora puoi accedere alla sfida Vingardium Leviosa per esercitarti con l'incantesimo. Seguimi, Potter. Lancia l'incantesimo Vingardium Leviosa su quella statua. Dopodiché, portala sul grosso piatto. Vingardium Leviosa! Bravo! Adesso vai e raccogli le stelle. Ci vediamo quando hai finito. Buona fortuna, Potter. Nipendo. Nipendo. Slippendo. 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 Halo mora! Ah! 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 Oh! Slippendo. 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 Slippendo Slippendo l'intendo l'intendo l'ingardium leviosa l'intendo l'ingardium leviosa 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 Sì. Sì. Allò mora! Vingardium Neviosa! Oh! Allò mora! Slipendo! Sì. 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 A L'O-Motta! A L'O-Motta! A L'O-Motta! A L'O-Motta! Vingardium Leviosa! A L'O-Motta! A L'O-Motta! A L'O-Motta! Oh Congratulazioni Potter Hai completato la sfida Hai raccolto tutte le stelle 20 punti a Grifondoro Adesso vai Vingardium Leviosa 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 Grazie a tutti. 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 Ci servono le gelatine per tendi... esperimenti. Parla con Fred. È lui che ha la figurina streghe e maghi famosi. Ottimo lavoro, Harry. Hai trovato tutte le gelatine che ci servivano. Eccoti una figurina streghe e maghi famosi. Spero che tu non ce l'abbia già. Grazie per l'aiuto, Harry. Grazie per l'aiuto, Harry. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ehi, Potter, ti piacciono le sorprese. Malfoy ha un regalo per te. Ti conviene stare attento qui intorno, Potter. I sorpeverde detestano il grifondoro. Pulendo... Chifro... Tsubendo... 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 Al behalf. A LOMOR! Nintendo! Ciao Harry, sono Neville Pachock. Questa è la mia ricordella. Ti avverte quando ti sei dimenticato di fare qualcosa. Oh, mi sta dicendo che sta per iniziare la lezione di erbologia. Ah, stavo per dimenticare. Stai attento a Draco Malfoy, l'ho visto girarsi da queste parti pochi minuti fa. Hai già provato a volare sul manico di scopa? A me fa un po' paura. Sì, dipendo. Mi sono dimenticato dove sia la lezione di erbologia. Sì, dipendo. Oh, la mia ricordella mi sta dicendo che la lezione di... Sì, dipendo. Mia nonna ha ragione. Mi dimentico sempre tutto. Qui intorno dovrebbe esserci una stanza segreta. E io sarò il primo a trovarla. A lo mora! A lo mora! A lo mora! A lo mora! Le cioccorane sono l'ideale quando sei... Sì, dipendo. Sì, dipendo. Quello è stato... Sì, dipendo. Sì, dipendo. Molto bene, Potter. Ci incontriamo di nuovo. Stai facendo un giro panoramico del castello. La tua passeggiata finisce qui. Non ti lascerò passare. Costi qualche cosa. Oh, che peccato. Potter non può uscire dal castello. Non ciò, non può uscire dal castello. Non ciò che ho mai avuto. Non ciò che ho avuto. Non ciò che sia... Non ciò che è... Non ciò che ho avuto. Non ciò che ho avuto. Non ciò che ho avuto. Ti stai divertendo Attento! Stai per piangere, Potter! Che tu sia maledetto, Potter! La prossima volta non sarai così fortunato! 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 Non sarai così fortunato!